ciao raga questa è la vespina di danny rifatta nuova nuova linda linda ma linda raga linda fatta a regola d'arte l'ha comprata così è fatta a regola d'arte ora gli ho detto danny ma con un caschettino così che tu mi tienno seggiolinosi che mi tienno seggiolinosi facciamo un attimo gli si fa provare quello di cristia e vediamo come rinasce questa vespina con il seggiolino diverso si pensa si pensa si pensa si pensa cioè guarda tutta un'altra vespina davvero impressionante però aspetta manca il colpo di classe colpo di classe è questo qui siamo made in italy no si tutto made in italy assolutamente ciao raga dalla vespina comunque fate i commenti e nei commenti scrivete se è meglio la vespa si la vespa banana la sella banana che c'aveva o questa qui con questo caschettino suo che c'ha di cia giusto danny giustissimo vai ciao raga